Un gruppo di ragazzine che si prostituiscono, adescano i clienti tramite Facebook. Di chi è la colpa? Vogliamo parlare di colpa, vogliamo parlare di coinvolgimento generale da parte di tutte le strutture sociali. Partiamo dai genitori, partiamo dalla scuola, dagli stessi professori. Quindi approfondiamo tutta la problematica per quanto riguarda gli strumenti e mezzi di comunicazione, i mass media. E quindi, dato che siamo tutti coinvolti, la colpa di chi è probabilmente non è di nessuno ma è di tutti. Il modo con cui ci si scarica la responsabilità di quelle che sono le problematiche che i nostri adolescenti stanno vivendo. Non parliamo poi degli strumenti di comunicazione perché continuano, diciamo, in modo persistente a presentare quello che è il futile, quello che è l'inutile, quello che è in pratica l'immagine della persona. Le ragazzine di quell'età cosa pretendono? Pretendono di avere strumenti, avere cose, avere jeans, avere i telefonini, i migliori che ci sono sul mercato e pertanto si vendono, tra virgolette, danno il loro corpo e utilizzano gli strumenti che hanno a loro disposizione. Quali sono gli strumenti? Gli strumenti, il telefonino, quindi internet, quindi tutti gli strumenti che ci sono, diciamo, a disposizione. Allora è importante che da parte di chi presiede, di chi segue queste problematiche, che ci sia una presa di coscienza, ma presa di coscienza, diciamo, non momentanea solo, che vada ad intaccare, a toccare profondamente quello che è il tessuto che oggi viene presentato, cioè il tessuto sociale di oggi è un tessuto sociale che ci coinvolge in tutte le generazioni e in modo particolare ci coinvolge in che cosa? In certe mancanze che abbiamo nel trasmettere le cose che contano, non le cose futili, non l'ovvio, non il superfluo, ma quello che conta. E logicamente quello che conta lo dobbiamo trovare dove? All'interno della famiglia, solo che la famiglia oggi è discretamente e notevolmente disgregata.